Passiamo ad altro. Stanno accadendo cose assurde in questo momento. Abbiamo parlato dell'uso politico della giustizia. Da un lato, sembra che viviamo in una società relativamente senza legge. Persone che commettono omicidi, che investono persone in auto sulla base della razza, secondo le loro stesse ammissioni, vengono lasciate a piede libero. Le carceri ormai hanno le porte girevoli. Ad esempio, i membri della gang venezuelana che hanno picchiato degli agenti di polizia di New York sono stati lasciati liberi senza cauzione. Sono stati poi arrestati dopo una rivolta dell'opinione pubblica. Ma di norma, ormai non vediamo molta giustizia in questo paese. D'altra parte, però, persone che fanno cose normalmente legali vengono incriminate. E di recente è accaduto qualcosa di sconvolgente. Breitbart ne parla. Attivisti pro vita che hanno pregato e cantato inni durante una protesta pacifica davanti a una clinica abortista del Tennessee. Molti lo fanno. Vanno in queste cliniche abortive e dicono alla gente di non abortire. Ebbene, delle persone che hanno fatto questo nel 2021 ora rischiano 11 anni di reclusione. Questo perché pare che il Ministero della Giustizia stia applicando una legge federale creata per colpire il Ku Klux Klan dopo la guerra civile. Quindi, da un lato un'illegalità quasi totale. Dall'altro, nuove interpretazioni estreme della legge. 11 anni di carcere per aver protestato davanti a una clinica abortista. Incredibile. E secondo Breitbart non sono solo questi sei attivisti a essere stati incriminati per aver violato la libertà di accesso agli ingressi delle cliniche, che è un reato minore, che comporta multe, e una pena detentiva massima di un anno alla prima infrazione. E a mio parere è comunque troppo. Sono anche accusati di associazione a delinquere contro i diritti in base alla legge KKK, che comporta una pena massima di 10 anni. Intanto, il post-millennial dice, New York sta diventando un'oasi per i criminali. Ci sono atti di criminalità in stile latino-americano, come quelli che si vedono in Brasile e in altri paesi sud-americani, dove i delinquenti fanno le rapine in ciclo motore. E pare che il comune abbia distribuito dei motorini ai clandestini. Fanno così. Sono in due ed entrambi ladri, tecnicamente, arrivano e quello dietro salta giù, ruba la borsa a una donna o un cellulare, e risale dietro in sella, e poi scappano. È un metodo di fuga rapido, usato per rapinare i negozi e anche per gli omicidi, o per rubare le auto, per ogni genere di reato. E questa forma di criminalità sta arrivando in America, anche qui a New York. Sto facendo uno speciale su questo. Di recente ho saputo di un caso in cui una di queste bande ha cercato di derubare una donna anziana che teneva stretta la borsa, e l'hanno trascinata sbattendola contro un palo mentre scappavano. Poi rapinano i negozi. E molte di queste azioni sono state compiute dai membri della band venezuelana Trend e Agua. Il post-millennial dice che ora New York starebbe cercando di affrontare il problema, e che il sindaco Eric Adams ha imposto il coprifuoco agli immigrati clandestini che risiedono nei centri di accoglienza della città, e richiede agli immigrati clandestini di rimanere all'interno dei centri di accoglienza dalle 23 alle 6. Il provvedimento si applica solo a 20 centri di accoglienza a Manhattan, Queens, Brooklyn e nel Bronx, e riguarda circa 3.600 immigrati clandestini, di cui circa la metà sono maschi e adulti single, secondo il New York Post. 3.600 persone. Sono un paio di giorni di immigrazione clandestina a New York. Praticamente non serve a niente. E poi, probabilmente, i criminali non sono quelli che stanno nei centri. È molto più facile che vivano con i membri della propria gang in giro per la città. La decisione segue un aumento della criminalità dovuto agli immigrati clandestini, come la brutale aggressione agli agenti della polizia di New York. Il racket delle bande dei ciclomotori è responsabile di almeno 62 rapine e di aver fatto fuoco contro una guardia giurata donna, colpendo poi una turista brasiliana. Ormai New York è diventata una favela da terzo mondo. Un portavoce del municipio ha dichiarato «La città di New York continua a guidare la nazione nella gestione di questa crisi umanitaria nazionale, e questo include la priorità della salute e della sicurezza sia dei richiedenti asilo affidati alle nostre cure, sia dei new yorkesi che vivono nelle aree adiacenti ai centri di accoglienza». «Una messa in scena, una buffonata, è pagata coi nostri soldi». Non solo vito e alloggio. Questi signori sono riveriti e serviti in tutto e per tutto. Ricevono soldi e carte di credito prepagate. A New York ora gli danno 10.000 dollari. Il comune sta andando in banca rotta e loro danno 10.000 dollari a testa». Il portavoce del comune ha dichiarato «Istituiremo un coprifuoco nei centri di accoglienza presso le case popolari, in linea con i coprifuoco già in vigore nei rifugi gestiti dagli interni e in quelli gestiti dal comune, che servono i migranti e i new yorkesi da lungo tempo senza fissa di mora. Non li chiamano più senza tetto. Ora sono dei senza fissa di mora». A quanto pare, questo è il modo politicamente corretto di dirlo. E dicono che questa politica consentirà una gestione più efficiente dei migranti affidati alle cure della città. Vedremo se una politica del genere è possibile. E che succede ai clandestini che violano il coprifuoco? Perché per ora non esistono conseguenze. Li rilasciano appena li prendono. Quasi sempre. Assassini, rapinatori seriali. Sembra che le forze dell'ordine non esistano più. Non possono più fare il proprio lavoro. Se lo fanno, rischiano di finire loro sotto processo denunciati da queste organizzazioni. E nemmeno possono espellerli, come risulta da una recente testimonianza in Parlamento. Come dire che, negli Stati Uniti, i criminali di fatto agiscono con l'autorizzazione dei politici. E un altro grande dilemma è, se a New York ci saranno immigrati clandestini che violano il coprifuoco, come faranno a stabilire chi è un immigrato clandestino e chi no? Come faranno a controllare? Hanno tolto alla polizia il potere di fermare e perquisire le persone e il potere di controllare se un immigrato sia clandestino. Hanno tolto tutto. Quindi non c'è nessuna possibilità di reale applicazione della norma. Si tratta, almeno per me, di grossolana propaganda, per mettere una pezza su una pessima trovata di pubbliche relazioni che la città sta cercando di mettere in atto. Ma non servirà assolutamente a niente, perché loro non vogliono deportare i clandestini. Non vogliono toglierli dalle strade. Vogliono solo continuare a spendere soldi pubblici. Ora gli danno anche 10.000 dollari a testa. Questa è New York in questo momento. Vediamo ora il New York Post. Dice che gli aiutanti del presidente Biden alla Casa Bianca hanno fatto pressione su Facebook per censurare un meme sul vaccino Covid-19 e un post di Tucker Carlson, secondo i file pubblicati giovedì dalla Commissione Giudiziaria della Camera. È emerso che il governo è coinvolto nella censura di un giornalista. E che non se la prendeva solo con Tucker Carlson, ma anche con i MIM. Stiamo trovando prove sempre più evidenti del fatto che, chissà perché, il governo federale sta facilitando, organizzando, pagando l'immigrazione illegale di massa negli Stati Uniti, andando contro i suoi stessi doveri fondamentali di protezione del paese dall'invasione e di protezione dei confini degli Stati Uniti. Non fa quello che normalmente sarebbe il suo lavoro. Non fa quello per cui lo paghiamo. Anzi, usa il potere che noi gli abbiamo dato per violare i diritti dei cittadini americani. Per questa gente, una delle più grandi minacce alla nostra società è la disinformazione. Secondo me, lo fanno perché sanno che se vengono smascherati per le loro buffonate, come quelle di cui abbiamo parlato qui, la gente, forse, potrebbe prenderla male. Per questo stanno censurando i giornalisti. In questo caso, Tucker Carlson. Per placare la Casa Bianca di Biden, sono stati redatti punti di discussione per Clegg. Facebook era pronto a dire alla Casa Bianca di aver penalizzato del 50% un video postato da Tucker Carlson in risposta alle richieste della Casa Bianca stessa, anche se il post non violava alcuna norma. Questo secondo il deputato Jim Jordan. Questo è importante, perché dimostra quello che molti di noi sospettavano, ovvero che i social media possono limitare la visibilità dei video. Io lo sapevo già per esperienza. Crossroads era enorme su YouTube prima che venissimo censurati dopo il 6 gennaio. Le iscrizioni si sono praticamente bloccate dopo il 6 gennaio. Siamo stati demonetizzati e la nostra visibilità è stata distrutta, che poi è il motivo principale per cui abbiamo creato Epoch TV. Ora, però, arrivano le prove che questi social controllano tutto. Possono fare quello che vogliono. Possono dare più visualizzazioni a uno e meno visualizzazioni all'altro. E stiamo trovando sempre più prove che lo fanno a fini politici, a volte con il sostegno del governo federale. Ormai è palese. È un sistema di censura per procura. Se il governo censurasse direttamente, sarebbe anticostituzionale. Sarebbe illegale. Per cui fanno così. Fanno pressione su aziende private affinché lo facciano al posto loro. E questo, letteralmente, è fascismo. Una commissione pubblico-privato finalizzata a privarci dei nostri diritti è fascismo vero e proprio, per definizione, e in violazione della Costituzione. Il deputato Jim Jordan ha indagato su questo. Questo articolo dice che il video dell'allora conduttore di Fox News, Tucker Carlson, non è stato identificato. È stato postato su Twitter dal deputato Jordan. Pare che il video che è stato esaminato non violasse le politiche interne sul vaccino. Ma il video viene comunque punito con una penalizzazione del 50% per sette giorni, mentre è in coda per essere sottoposto a fact-checking. In altre parole, hanno il loro bravo gruppetto di fact-checker che, come spesso abbiamo visto, non controllano i fatti. Nascondono i fatti. E le pressioni su Facebook per rimuovere i post sono continuate anche dopo l'aprile 2021, con Biden che a luglio dichiarava che i social network stavano uccidendo le persone, permettendo la circolazione di informazioni, secondo lui, false. Ormai si sa, la bufala della disinformazione è una minaccia per la vita e la sicurezza del popolo americano, perché permette queste cose col pretesto della salute pubblica. In un'e-mail interna di Facebook del 2 agosto 2021, si dice che la dirigenza dell'azienda ha chiesto alla Misinfo Policy di studiare alcune azioni ancora più aggressive contro quella che, per loro, è disinformazione. L'azienda fa notare che questo deriva dalle continue critiche da parte dell'amministrazione Biden, il che significa che Facebook ha fatto censura a causa delle pressioni del governo, il che significa censura per procura, il che significa che non si trattava di una decisione di un'azienda privata, era il governo che censurava le persone. In questo caso, il governo censura i giornalisti che cercano di mettere in guardia dai vaccini. Questo naturalmente solleva questioni di soppressione politica diretta, visto che il sistema di censura per procura dell'amministrazione Biden è stato usato anche per censurare uno dei principali giornalisti dell'opposto schieramento politico, uno dei giornalisti dell'opposizione, un conservatore. Questo significa che il governo perseguita i giornalisti, cosa che normalmente viene condannata e che si vede solo nei sistemi totalitari o nei paesi del terzo mondo. E questo si collega anche al quadro più ampio della censura governativa in atto. Sapete i file di Twitter, i file di Amazon, in cui venivano censurati persino i libri? Pare sia stato creato un sistema articolato per censurare gli americani. Anche se siamo nelle fasi iniziali, stiamo già vedendo quanto sia pervasivo. Ricordate, è una cosa nuova. E se è nuova, significa che si svilupperà se le si permette di continuare. Ora usa la pressione del governo per costringere le aziende private a compiere azioni che il governo stesso non può legalmente fare, violando la Costituzione per interposta persona. Io dico due cose. Uno, siamo all'inizio della censura con questo metodo. Lo hanno fatto praticamente solo sotto Biden, il che significa che la cosa continuerà ad espandersi. Siamo al primo stadio. E se si permetterà che continui, questa forma di violazione della Costituzione continuerà. Attualmente è soprattutto in quest'area, la censura, ma potrebbe facilmente espandersi ad altre materie. E, ad esempio, le aziende private potrebbero essere usate per violare altri diritti costituzionali. Vedremo se la Corte Suprema si pronuncerà in merito, perché, lo ripeto, questo è fascismo. La domanda principale a cui si deve rispondere è è ancora un'azione governativa, cioè una violazione della Costituzione, se le pressioni governative sono il motivo per cui un'azienda fa questo. Questa è la grande domanda a cui rispondere in questo Paese, perché, se non viene fermata, si espanderà. E non è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero. Grazie a tutti.